Gentili telespettatori, buona giornata. Sta succedendo qualcosa di eccezionale. Le notizie sono arrivate ieri sera, tardi. I servizi segreti e i servizi di sicurezza degli Stati Uniti hanno un dossier dove c'è scritto che dalla Russia verso i politici di 24 paesi sono arrivati dal 2013-2014 ad oggi 300 milioni a partiti e capi politici. A partiti e capi politici. Come ve lo posso dire? Siamo l'unico paese, probabilmente, di quei 24 paesi che ha delle elezioni fra dieci giorni. Seguite il mio discorso, eh? Siamo il paese che ha le elezioni. Tra poco. Pochissimo. Ci si aspettava, come diceva Sallusti, come diceva Crosetto, Paolo Mieli, un colpo da parte di una parte della magistratura verso i leader del centrodestra. Addirittura uno di questi commentatori, direttori di giornali, diceva sappiamo già che ci sono i dossier già pronti, già firmati, aspettano solo due o tre settimane dal voto. Per il momento non è arrivato niente. Colpo di scena, a dieci giorni dalle elezioni, i servizi segreti degli Stati Uniti tirano fuori un dossier con soldi dati in mano, con valigette diplomatiche, in modi differenti a capi politici italiani e di altri 24 paesi. Allora, non hanno detto italiani, ma in quei 24 paesi volete che non ci sia l'Italia? Ecco, l'unico paese che ha le elezioni. Voi sapete che l'Italia, per quanto gli italiani parlino male di questo grande paese, è un grande paese. È uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, è uno dei paesi fondatori della Nato, Alleanza Atlantica, è uno dei principali alleati militari degli Stati Uniti. È uno stato importantissimo per gli equilibri geopolitici e internazionali. sta andando a vincere una coalizione di centrodestra, più spostata a destra che al centro. Agli Stati Uniti non credo che interessi nulla che sia una coalizione di destra. L'Italia, con una coalizione di destra, rimane atlantista, europeista, nella Nato, però, però, attenzione, ascoltatemi bene. Nel centrodestra, che si appresta a vincere le elezioni, dovrebbe, utilizziamo il condizionale, ci sono dentro due capi politici, Berlusconi era l'amico personale, facevano le vacanze assieme con Putin, a casa di Silvio, ci sono centinaia di foto, amici, amici. E poi abbiamo Salvini, Salvini, magliette, fotografie, alleanza, contratto di amicizia tra il partito di Putin e la Lega, attualmente ancora in vigore è stato rinnovato. L'Italia si troverebbe con un presidente del Consiglio, Giorgio Ameloni, e due partiti che agli occhi, attenzione, agli occhi degli Stati Uniti sono dei partiti simpatizzanti. Uno è l'amico, l'altro è quello con le magliette. Insomma, visto dall'estero e anche visto dall'Italia, possono immaginare che il governo e l'Italia, fondamentale partner della Nato, dell'Europa e dell'Occidente, possa diventare una sorta di anello debole, un governo che possa diventare filo putiniano. Non tanto per Meloni, non per Meloni perché non ha mai messo magliette, non è mai andata a mangiare con Putin a casa sua, non ha fatto alleanze col partito, niente di questo, anzi è sempre stata fermamente con la Nato, con l'alleanza atlantica, con le sanzioni. Quindi non è un problema di Meloni o di destra, non è un problema di paura, arrivano i nostalgici, interviene gli Stati Uniti. Qui il mio sospetto, è un sospetto, attenzione, è un'opinione sospetta, è che, e che, 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 voi mi avete capito, che ci possa essere un tentativo, un tentativo di intervenire nelle elezioni italiane, tirando fuori fra qualche ora magari, che qualche politico italiano, non facciamo nomi e cognomi, possa aver preso personalmente milioni, o per il partito, in qualche valigetta diplomatica, vedi, vedi quell'altro partito, Venezuela, soldi, insomma, eh, quindi, potrebbe succedere, un qualcosa del genere. potrebbe essere un politico di destra, capisce a me, o potrebbe essere un politico di sinistra, perché voi sapete che l'Unione Sovietica, dalla fine del dopoguerra, fino al 1988, non mi ricordo esattamente, ma con il dossier Mitrokni, sono arrivati, documentati, i servizi segreti di tutto il mondo, hanno dato per certa, il dossier Mitrokni, Mitrokni era un archivista del KGB, che è andato in pensione, ha trascritto tutto quello che ha visto, e l'ha passato all'Occidente, non so perché l'abbia fatto, però, l'ha fatto, e ci sono stati fiumi, fiumi di denaro, fiumi di parole, fiumi di denaro, arrivati dall'Unione Sovietica al Partito Comunista Italiano, negli anni. Ok, però, in questo contesto che vi raccontavo prima, dove c'è un'elezione, e all'estero hanno paura che l'Italia possa diventare simpatizzante, e spaccare l'Alleanza Atlantica, spaccare l'Europa, possa diventare simpatizzante con l'amico, quello delle magliette, capite che nessun politico al mondo, come Salvini e Berlusconi, erano così, uno simpatizzante e l'altro amico, capite che poi messi insieme, possono dar molto fastidio, e ci potrebbe essere un tentativo di fermare, di cercare di cambiare l'esito delle elezioni, fra qualche giorno, ci siamo intesi, giusto? Quindi, potrebbe uscire qualche nome di destra e non qualche nome di sinistra, perché con la sinistra non avrebbero un problema che hanno con la destra, credo che di essermi fatto capire abbastanza. Grazie a tutti, arrivederci.